Buongiorno, con la circolare 105 emanata il 5 agosto del 2011, l'Inps mette fine a un dibattito che era rimasto aperto per circa un anno, e cioè il dibattito sul sussidio di disoccupazione. Mette fine a questo dibattito nel senso che stabilisce una volta per tutte che i lavoratori dello spettacolo non hanno diritto al sussidio di disoccupazione. Come forse vi ricordate, nella sentenza della Corte di Cassazione del 2010, era stato dato la possibilità alle Inps locali di non erogare il sussidio, questo aveva portato a un po' di confusione, nel senso che alcune sedi Inps lo erogavano, altre no. Con questa circolare la confusione è stata dissolta una volta per tutte, e quindi i lavoratori dello spettacolo, a differenza di tutti gli altri lavoratori italiani, non hanno più questo diritto. Perché questo? L'Inps dice, riprendendo la sentenza della Corte di Cassazione, che secondo la legge italiana i lavoratori dipendenti hanno diritto al sussidio di disoccupazione, ma ad esclusione dei, diciamo dice, non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria il personale artistico, teatrale e cinematografico. Quindi anche se siamo stati assunti da un teatro, da una compagnia e quant'altro, e ci sono stati versati i contributi di esse, i cosiddetti contributi per la disoccupazione involontaria, quindi poi il lavoro l'abbiamo perso, comunque trattandosi di lavoro a intermittenza, come sempre succede per la nostra categoria, il lavoro è cessato. L'anno prossimo, secondo questa circolare Inps, non avremo più diritto, quindi anche se i contributi sono stati versati, siccome i contributi non erano dovuti, non abbiamo diritto a una prestazione che dovrebbe essere stata pagata dal datore di lavoro nell'arco del 2011. Un altro aspetto, per così dire, interessante di questa decisione è che l'Inps tira in ballo un confronto con l'Enpals e soprattutto un confronto con le parti sociali interessate, cioè questa decisione è scaturita da ulteriori approfondimenti, nonché dal confronto con Enpals e parti sociali interessate. Ora, l'Enpals è l'ente pensionistico dei lavoratori dello spettacolo e non dovrebbe avere voce in capitolo su una prestazione che i datori di lavoro pagano all'Inps e non all'Enpals evidentemente. Soprattutto mi chiedo come mai l'Enpals abbia avallato una decisione di questo tipo, l'Enpals non è un sindacato, però è un ente che in qualche modo è il nostro ente di riferimento. Comunque, non esiste traccia di questo confronto. Ma soprattutto le parti sociali interessate, chi sono queste parti sociali interessate che tutelando i nostri interessi per l'appunto vanno all'Inps e gli dicono sì, smettete di erogare il sussidio di disoccupazione perché noi non lo vogliamo. Chi sono queste parti sociali interessate? Questi sindacati o questi enti di rappresentanza non vengono minimamente menzionati. Quindi alleghiamo qui sotto questa circolare, alleghiamo anche l'allegatora circolare in cui potete leggere tutte le categorie che d'ora in avanti non hanno più diritto a sussidio di disoccupazione.